La Calabria vista dalla stratosfera, il nostro telegiornale, le immagini registrate dalla telecamera piazzata su un pallone sonda lanciato nello spazio dalla SILA. Un esperimento scientifico realizzato grazie ad un progetto di alternanza scuola-lavoro del liceo scientifico di Cariati in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Università della Calabria e l'Abi Project, Carla Monaco. Una Calabria stratosferica circondata dal mare ma ricca di alture e montagne. Sono immagini spettacolari quelle realizzate a 34.111 metri d'altitudine dalla telecamera piazzata su un pallone sonda lanciato nello spazio. Un volo da record, il primo sopra la soglia dei 29.000 metri nella nostra regione. Punto di partenza Camigliatello. A effettuare il lancio con l'aiuto degli esperti dell'Abi Project di Rosarno, una realtà specializzata nei lanci spaziali, i ragazzi del liceo scientifico di Cariati, i protagonisti del progetto Mocris di alternanza scuola-lavoro. All'interno della sonda due rilevatori di raggi cosmici che raccoglieranno dati da analizzare all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma. I raggi cosmici sono molto importanti sia da un lato positivo sia da un lato negativo. Se il flusso dei raggi cosmici fosse troppo elevato probabilmente la vita sulla Terra non c'era. Ma probabilmente hanno avuto anche un influsso sulla vita in quanto sono dei generatori di mutazioni genetiche che danno luogo a quella che poi si chiama evoluzione. Nella sonda anche dei tardigradi, animaletti microscopici in grado di sopravvivere in condizioni estreme, il cui comportamento nello spazio sarà studiato all'Università della Calabria e poi una sorta di gelatina che dovrebbe attirare i micrometeoriti da analizzare all'Università di Glasgow. Quello che cercherò di capire è praticamente se questi micrometeoriti mi danno indicazioni sul corpo progenitore delle sciami meteorici d'inizio estate, d'inizio giugno, ovvero se il corpo progenitore di questi sciami è un asteroide o una cometa. E non finisce qui perché il lavoro è ancora tanto. Avremo poi tutto un lavoro di analisi dei dati che abbiamo acquisito, sia sui raggi cosmici, sia sul comportamento dei tardigradi che abbiamo mandato in stratosfera, e sulle polveri che speriamo di beccare di micrometeoriti che saranno analizzati anche questi nei laboratori appositi. Quindi un'esperienza veramente molto ricca di scienza e che ci terrà impegnati anche l'anno prossimo. Grazie a tutti!